Il supermercato DOC di Via Nicolai, ancora vittima di una rapina, questa volta da chi meno ci si aspetta un atto simile. Passate al deferimento degli agenti delle volanti, due donne di 22 e 19 anni, precisamente sorelle, colte in flagranza del reato di furto aggravato in concorso. La refurtiva sarebbe stata pari ad 80 euro, ovvero l'equivalente in denaro dei prodotti sottratti illegalmente all'attività commerciale, se non fosse per l'intervento del responsabile del supermercato, tempestivo, nel bloccare le due malfattrici e sventare la minaccia di un'ulteriore rapina.